Ciao! Bentornato al programma tv di oggi con notizie come Ilari Blasi fa impazzire tutti con la nuova foto scattata direttamente in auto Shorts e calze, eleganza e sensualità alle stelle Ilari Blasi è l'assoluta protagonista del periodo e non soltanto per le vicende di gossip La conduttrice romana, dopo essere stata assente dalla tv per diversi mesi, ed essere stata seguita per la fine della sua storia con Totti, è ritornata in grande stile alla guida della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, spiccando come sempre per talento e bellezza Tra battute, particolari siparietti e outfit come al solito sorprendenti ed azzeccatissimi La Blasi, è una delle regine di Mediaset ed il pubblico è pazzo di lei Da poco ha compiuto 42 anni, un'età che sembra accrescere tutta la sua bellezza e la sua sensualità Biondissima, con un corpo marmoreo sempre in forma Ilari è attivissima anche sui social, dove i follower possono ammirare tutta la sua sensualità scatto dopo scatto Di recente, la conduttrice ha di nuovo mandato in tilt il web mostrandosi più fascinosa che mai addirittura con shorts e calze Ecco la foto pubblicata, una vera e propria dea in auto Ilari Blasi incanta con le sue trasparenze Bellezza dirompente e il dettaglio non sfugge Anche quest'anno il reality show di Canale 5 sta avendo un grande successo di pubblico Ma l'attenzione dei fan è in gran parte rivolta a Ilari Blasi e a tutta la sua bellezza Tramite la sezione delle stories del suo seguitissimo profilo Instagram, la conduttrice ha lasciato tutti senza parole mostrandosi direttamente nella sua auto con un outfit veramente da urlo Seduta sul sedile posteriore, la Blasi indossa una lunga felpa grigia ma A spiccare, solo le gambe toniche lasciate in gran parte scoperte dagli shorts cortissimi ed enfatizzate dalle calze nere Elegante e sensuale, la conduttrice strega i social offrendo una visione davvero da sogno A vederla, non soltanto non sembra che abbia compiuto da poco 42 anni Ma col suo fascino e il suo corpo scolpito fa davvero invidia alle 20 anni Da diversi mesi è molto più attiva sui social ed è certo che Nella prossima estate 2023 La Blasi non mancherà di incantare sfoggiando un bikini mozzafiato Volto di punta media sette vera e propria icona di sensualità Dopo anni dall'esordio come letterina, tutti ancora pazzi di Ilari Grazie per aver guardato l'intero video La notizia è qui per finire Mettete mi piace e commentate In particolare cliccate iscriviti al canale Per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video